Io e Stefano ci siamo conosciuti principalmente e inizialmente come io cliente, lui funitore. Successivamente vedendo questo scenario e apprezzando la sua cultura per il verde e per il green, Ennega non poteva non averlo come cliente, siamo diventati partner. Giusto Stefano? E' così, infatti la scelta non è chiaramente solo per il risparmio ma anche per tutto quello che praticamente oggi è Ennega sposa. Stiamo veramente cercando di andare quanto più possibile sul green. Da non dimenticare, come tu pensai quando arrivano le fatture, che la quantità di CO2 che tu hai fatto risparmiare corrisponde ad arberi piantari all'interno della tua o azienda o società o chi che sia o all'interno del tuo paese, perché non ci limitiamo al nostro piccolo mondo ma facciamo sottolineare altre persone di quello che è il nostro piccolo fondamentale, il diritto. Bene. Grazie. 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 Grazie.